Cari amici di Quotidiano.net, buongiorno. Se ci fosse la VAR come tutto il mondo auspica, stasera la Juventus giocherebbe al Parco dei Principi contro il PSG anziché a Barcellona contro la squadra catalana e soprattutto il Real Madrid non sarebbe in semifinale per la settima volta consecutiva ma ci sarebbe il Bayern Monaco. Pensate come cambia il calcio e l'interesse mondiale economico che c'è dietro il calcio semplicemente con l'introduzione di quello che tutto il mondo usa quotidianamente ovvero la tecnologia. Quello che è successo ieri sera tra il Real Madrid e il Bayern Monaco a nostro avviso va molto oltre l'errore umano dell'arbitro che sbaglia. Qui è successo qualcosa di molto più grave, ha condizionato rovesciando completamente il risultato di una partita ed ha sospetti sicuramente a quanti ritengono che questi errori a favore delle spagnole non siano affatto casuali. Vediamo perché. La partita innanzitutto è stata veramente condizionata, l'espulsione di Vidal ha rovesciato l'inerzia della partita lasciando il Bayern in 10 giocatori contro 11 quando Vidal non era neanche da ammonire e non era neanche fallo il suo. Poi ci sono stati i due gol in fuorigioco da parte di Ronaldo. Infine, quarto particolare non ininfluente, Casemiro andava espulso e non è stato invece cacciato dall'arbitro e sarebbe stato quindi il Real a giocare in 10 e non al Bayern Monaco. Quattro decisioni, tutte e quattro decisive che hanno stravolto una partita e hanno tolto alla Champions sicuramente la squadra più forte, più completa, più compatta, meglio allenata, indubbiamente la squadra da battere. Ancelotti che non ha mai lamentato torti arbitrali nella sua carriera o che lo ha fatto molto raramente, alla fine ha detto una frase molto tranquilla ma molto significativa. Io che non ho mai creduto alla necessità di applicare la VAR in campo a questo punto devo cambiare idea. Non è il primo episodio che avviene e avviene a favore di una squadra spagnola. Ricordiamo senza andare tanto indietro nel tempo che l'arbitro tedesco Heitekin ha di fatto deciso che il Barcellona doveva passare il turno a spese del Paris Saint-Germain. E citiamo un episodio su tutti, il rigore dato al novantesimo, quello decisivo che poi ha aperto le porte alla remontada del Barcellona, un tuffo clamoroso di Suárez neanche toccato da Marquinhos. L'arbitro anziché ammonire Suárez che era già ammonito e quindi sarebbe stato a quel punto espulso ha dato il rigore ed ha aperto le porte in questo modo al passaggio del turno del Barcellona mentre il proprietario, lo sceicco Alcelaifi, ha inviato un esposto all'UEFA con dieci episodi addirittura discutibili nel corso di questa designazione arbitrale. Perché queste designazioni fanno un po' insospettire? Perché non si tratta di arbitri alle prime armi o che possono commettere un errore o comunque che sono in qualche modo un esperimento per questo campionato. Pensate che Cassai, l'arbitro di martedì sera, è stato considerato il migliore arbitro del mondo nel 2011, ha arbitrato la semifinale della Coppa del mondo per club recentemente a gennaio, ha arbitrato Italia-Germania nell'ultimo europeo, in Francia è anche la prima partita dell'europeo, insomma stiamo parlando di uno dei primi due tre arbitri al mondo e questi errori così tanti in una stessa partita veramente non si spiegano. Andiamo oltre, ricordate l'arbitro Ovrebo, quello della partita tra il Chelsea e il Barcellona che aprì un capitolo clamorosamente importante a favore proprio di questa squadra catalana. Perché insospettisce la situazione di Ovrebo? Perché dopo gli errori commessi in quella partita l'arbitro non fu sospeso o addirittura cacciato, ma si andò avanti al punto che poi gli tifosi di calcio italiani, se ricorderanno bene, la partita tra il Bayern e la Fiorentina con la mancata espulsione di Close, l'espulsione molto discutibile di Gobbi e soprattutto il gol in nettissimo fuorigioco di Close che poi ha deciso il match tra queste due squadre, in questo caso a favore del Bayern. Ecco perché la Juve è partita per Barcellona con più di una preoccupazione al di là del 3-0 della gara di andata e perché tutto il mondo un po' si interroga. Pensate che Collina ha designato per questa gara un direttore di gara che aveva già dato due rigori contro il Milan di Allegri nel 2012 e anche questo è un episodio che non è piaciuto. In generale non piace che non si applichi la VAR in campo e Collina che continua ad opporsi a questo ammodernamento del calcio internazionale, prima o poi dovrà cedere. Cari amici di Quotidiano Net, appuntamento al prossimo video.